Continuiamo il nostro cammino. Un secondo passo nel silenzio di Maria. Questa volta siamo alla grotta di Betlemme e è avvenuto il grande evento. Maria ha dato alla luce il suo figlio Gesù e tante persone, diverse anche nella loro situazione sociale, i pastori, poi i magi, persone curiose che vanno a vedere dopo aver ricevuto il grande annunzio dell'angelo. E Maria, dice l'Evangelo, custodiva tutte queste cose conservandole, meditandole nel suo cuore. Più ci si avvicina a quella grotta di Betlemme e più scende il silenzio. Prima il canto degli angeli, poi il mormorio dei pastori, poi il vociferare delle persone, ma quando si giunge lì si trova veramente il silenzio. Perché? Perché Maria tace, Giuseppe tace, ma lì è nata la parola. Lì veramente il silenzio vuol dire accoglienza di una realtà nuova. Sia anche questo per noi l'atteggiamento con cui vogliamo vivere il nostro momento interiore, ma un momento interiore che è cosciente di dover diventare un momento di testimonianza visibile per tutti.